Tutto a posto? Sì dottore, abbiamo dieci uomini in borghese appostati Mi raccomando, attento eh Stia tranquillo Speriamo che arrivi Ma verrà, ormai si sente sicuro Presentarsi in piazza vuol dire coronare la sua vittoria Verrà a fare la sua passeggiata per il corso Ed entrare in chiesa a testa alta Come per anni ha fatto Crifodo Allora, quando arriva fategli vedere che ormai è stato con lui Va bene, mi avvicinerò e lo accompagnerò in chiesa All'uscita ci penserete voi e i vostri uomini a fare il resto Se riusciamo a prenderlo stavolta è fregato Con quello che sapete di lui dovrà rispondere almeno di quattro omicidi E di bada la messa non si sentirà più parlare È la prima volta che ho un testimone vivo Ci rimarrò Perché solo se resterò vivo io alla gente qua Passerà la paura Dottore, arrivano! Eccolo Andate ad aspettarlo davanti alla chiesa Buona fortuna Saludando 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 Buongiorno. Buongiorno. Sante va dalla messa, è un arcangelo stanato, ti ricordi? Andava fatto, l'ho fatto io. Buongiorno. No così no. Così no. Così no. Così non serve. Così non serve. Così non serve! Così non serve a niente! Non serve a niente! Andiamo via. No, Salvatore, fatto così non serve a niente. No, Salvatore! 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 No, Salvatore!